Una breve introduzione per dirvi che sono Riccardo, ho 33 anni, sono il vostro coach e ovviamente ho fatto il video che state per vedere di getto, adesso va molto meglio ovviamente non è un pensiero costante ma voglio portare la vostra attenzione all'altra faccia del body shaming ossia il body shaming da parte dei normopeso, se così vogliamo chiamarli a fronte di un feticcio intimo che riguarda le persone sovrappeso e obese ho utilizzato i sottotitoli di tiktok, se volete seguitemi su tiktok trovate il nome sul video tiktok stesso oppure per le persone non vedenti lo metterò anche in descrizione così la voce potrà leggervi il tiktok buon ascolto e se riesco ritorno prima della fine dell'anno con un altro video ma non vi prometto nulla, ciao buonasera tiktok, wild senza occhiali non c'ho voglia, ho voglia di essere caseccio però questo argomento mi prevede troppo e dopo averlo letto in tutti i luoghi, in tutti i laghi compreso le dating app non ne posso più, devo dire la mia non so quanto questo intervento possa essere più da coach, meno da coach, più da Riccardo quindi parlerò a ruta libera si parla tanto di body shaming, di solito inteso come insulti, offese, invitino, richiesti di dieta e di dimagrimento nei confronti di persone in sovrappeso o ad uno di quelli che se non sbaglio dovrebbero essere tre livelli di obesità parallelamente si sta sviluppando la body positivity in contrapposizione a quello che è il body shaming che vede i corpi, i persone fuori dal peso che è ritenuto la norma che si accettano o insegnano l'accettazione ecco io vorrei rispendere due parole sulle persone come me per le quali dimagrire non è una scelta di bellezza o quantomeno non necessariamente non solo il mio corpo mi piace già così ma soprattutto io non posso ingrassare non posso ingrassare perché ho un'autonomia residua sulle 24 ore che spazia dalle 2 ore alle 3 ore secondo il mio stato di salute quindi ingrassare per me non farebbe altro che complicare questa situazione ero sperimentato con un leggero sovrappeso nel 2021 dato da un mio vecchio assistente non in grado di forrirmi l'alimentazione corretta quando scrivete no grassi no magri avete idea allo stesso modo di quando ingrassare può non essere una scelta o bisogna parlare sempre e solo di un unico lato della medaglia io sono stanco di sentirmi in colpa perché non posso ingrassare di sentirmi in colpa per la mia età di sentirmi in colpa per i miei gusti per sentirmi in colpa per tutto non tutte le persone possono ingrassare e provo pena per ragazzi che dai 20 anni in poi iniziano a ingrassare soprattutto nel mondo omosessuale per piacere di più io scelgo di stare bene perché sinceramente signori miei la mia salute è già abbastanza compromessa senza che mi metta ad ingrassare volontariamente non sono comprese curi ormonali assunzioni di cortisone e quant'altro io non posso ingrassare se vi sta bene così altrimenti sapete che c'è sono stato solo per i 4 anni precedenti un anno in più penso che non mi farà male buonasera a tutti grazie